Quindi è tutto pronto per l'inaugurazione della Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova? Assolutamente sì, sono praticamente in fase di ultimazione, gli ultimi interventi che vedono appunto il completamento e la realizzazione del nuovo spazio dedicato alla palestra, agli ambulatori e ai box per la fisioterapia. Sono stati realizzati nel pian terreno della palazzina che ospita la riabilitazione e l'ospis, un intervento che vede la realizzazione di quasi 800 metri quadri di ambienti nuovi per la parte prevalente ovviamente destinati alla nuova palestra funzionale al reparto di riabilitazione. Come dicevo anche 4 box interni per l'implementazione e il miglioramento del servizio di fisioterapia ovviamente finalizzato sia agli utenti esterni ma anche in favore degli utenti esterni. E ovviamente per il completamento di tutto lo spazio abbiamo anche realizzato tre ambulatori, attualmente verranno in prima battuta utilizzati per esigenze sanitarie interne ma in prospettiva la nostra volontà è quella di implementare un servizio di terapia del dolore a livello ambulatoriale aperto anche all'utenza esterna. Quindi un intervento importante, un intervento che per quanto riguarda l'investimento economico per la fondazione ha visto un esborso complessivo nell'ordine di 680 mila euro. I tempi di realizzazione sono stati relativamente contenuti, il risultato lo lascerò a chi verrà l'inaugurazione e la valutazione per quanto mi riguarda particolarmente pregevole. Volevo peraltro fare un ringraziamento particolare a tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione e alle ditte che hanno partecipato ai lavori perché sicuramente hanno dato il loro meglio in termini di prestazioni erogate e di collaborazione data. E il programma dell'inaugurazione? Il programma dell'inaugurazione è domenica prossima, domenica 4 maggio alle ore 9 con la messa celebrata all'interno della chiesa della fondazione, alle ore 10 i saluti miei del sindaco, il dottor Riccardo Cagnoni, delle autorità presenti, il taglio del nastro, l'apertura degli ambienti, la visita e poi un buffet aperto a tutti coloro che si presenteranno. Peraltro questa è la penultima inaugurazione per quanto riguarda l'attuale Consiglio d'Amministrazione che ricordo volge a scadenza di mandato in corso d'anno perché il prossimo 17 maggio ci sarà anche l'inaugurazione per quanto riguarda il completamento del parcheggio che è stato fatto nello spazio prospicente l'ingresso della fondazione su terreno di proprietà comunale in prossimità delle scuole medie. Ma questo è un altro argomento, lo vedremo più avanti.